sì. Buonasera, buonasera dalla sala HFT di Trading dove ci riuniamo diversi amici. Oggi è il primo di aprile del duemilaventidue e sono le ore diciassette. Il nostro carissimo amico Gianni Carimpur assiduo frequentatore della sala è uno dei primi ad entrare. Eh questa sera ci allieta con la lezione numero quattro che fa seguito alle precedenti smart money e conosci il mercato. In particolare questa sezione qua è dedicata al supply e demand. Poi sarà lui diciamo così chiaramente a spiegarcelo. Eh prima di proseguire mi fa piacere poter leggere il disclaimer. Eccolo qua il disclaimer. sarebbero le avvertenze di rischio articolo uno comma cinque septis del decreto legislativo cinquantotto novantotto così come modificato dal decreto legislativo centosessantasette duemilasette. Il trading online è un'attività speculativa ad alto rischio in cui la possibilità di una perdita parziale o totale del proprio investimento è reale. Di conseguenza non è adatta a tutti i tipi di investitori. Prima di decidere di effettuare investimenti in valute reali è necessario comprendere a fondo i rischi connessi a tale attività. Considerare attentamente i propri obiettivi di investimento, il proprio livello di esperienza e l'attitudine al rischio oltre alla propria situazione reddituale e patrimoniale. Tutte le informazioni e le pubblicazioni esposte in questo webinar hanno carattere puramente informativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda queste attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosi tutti i rischi. Di conseguenza gli autori del seguendo webinar non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai lettori ed ascoltatori e declino ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Adesso andiamo un attimo alla seconda slide per spiegarvi che per darvi un aiuto, una guida. Questo è il primo argomento trattato da Gianni, anzi veramente poi ne sono state due lezioni in un unico webinar, sopra trovate il link di YouTube ed era appunto la lezione numero uno che poi è diventata anche uno e due di Smart Money e conoscere il mercato. Questo è avvenuto il 15 febbraio. La terza lezione il 16 marzo 2022 ore 17 che pari argomento e trovate sopra il link di YouTube. A questo punto io eh direi di passare la parola all'amico Gianni Carin pure la condivisione dello schermo. Non mi ricordo se mi sono presentato o meno io sono Domenico, Domenico Farina pensionato di anni settantuno e in pensione da giugno duemiladiesci provenire dal settore bancario. Passo adesso la condivisione dello schermo a Gianni. Gianni io interrompo la mia condivisione e condividi te e prosegui con questa lezione ehm bocca al lupo. Buonasera sono Gianni Carinbur e qualche amico avevo chiesto che mi dovevo presentare un po' di più. Io sono di origine persiano. Diversi anni fa sono sono venuto qua in Italia e studiavo medicina alla Sapienza di Roma. Poi dopo piano piano dal medicina mi sono dato a commercio e nel settore alberghiero avevo dei alberghi e ristoranti e bar e discoteche che più ce l'ha più si ammetta. Poi dopodiché attualmente sono circa dieci anni che ormai non lavoro attivamente come prima mi sono pensionato e mi sono dedicato alla borsa. E questo è un sintetico della mia vita. Ecco tutto. Allora eh come aveva accennato nostro amico Domenico noi abbiamo già eh nelle precedenti lezioni di questo è smart money e conoscere mercato abbiamo accennato di come conoscere eh mercato come conoscere un eh prendo la mia penna eh cancelliamo tutto questo come conoscere eh un eh un Svink come conoscere eh come riusciamo a indovinare ehm diciamo come entrare dentro mercato eh poi abbiamo detto più o meno ehm abbiamo spiegato cos'è un ciò che change of carattere è un BOS sarebbe break of structure cambio di natura del mercato eh poi abbiamo eh faccio un piccolo eh ripasso così per amici che non se lo ricordano così ehm raffresco un po' la memoria. Abbiamo detto noi cerchiamo di usare meno possibile eh indicatori per conoscere il mercato una volta che capisci mercato dove va e dove vuole andare che direzione ha a quel punto cominciamo a prepararci e metterci eh indicatori che eh vogliamo però intanto eh in primo passo dobbiamo sempre eh capire mercato che direzione vuole prendere poi dopo eh abbiamo detto eh Fibonacci in che misura noi usiamo più che indicatore usiamo o dei trendline o Fibonacci più di questo eh cercamo di usare meno possibile indicatori in modo che nudo crudo riesce a capire meglio eh andamento del mercato abbiamo poi detto cos'è time frame madre che time frame madre abbiamo detto noi di mattina quando veniamo cominciamo da un time frame daily eh da un time frame acqua 4 per capire mercato che che vuole fare se noi vediamo ecco e questo euro dollaro noi veniamo visto che io in genere non preparo mai da prima eh le mie lezioni già da qua eh perciò come vedete sta sempre eh dal vivo del mercato ne parliamo eh poi abbiamo parlato di liquidità 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 cos'è come si eh capisce liquidità di un mercato come se mh mh cos'è e da dove proviene e mercato e banche e broker e squali big boys come fanno a entrare al mercato su che base quando tassi di interessi e liquidità quelle che cercano big boys e noi dobbiamo andare sulla scia di loro poi abbiamo detto cos'è eh zona di buon mercato eh che abbiamo spiegato molto sinteticamente dico questa adesso per esempio stiamo nel vivo del mercato nel time frame daily nel time frame daily noi qua vediamo che il mercato e sta già da prima vista e sta venendo giù venendo giù ha fatto questo doppio massimo con questo minimo questo era l'ultimo minimo che ha dato questo l'ultimo massimo e quindi noi stiamo dentro un trend short dentro un trend short abbiamo detto noi da qua non possiamo andare a prendere short ancora più short e quindi dobbiamo cercare di prendere zona di buon mercato zona di buon mercato di un trend del genere quando viene non è qua viene con un abc viene fa un lavoro del genere in genere se voi vedete passato del mercato noi siamo figlio del passato del mercato quello che dice eh passato noi lo usiamo nel futuro per vedere dove va mercato e quindi a questo punto noi dobbiamo vedere questo eh mercato che adesso ha fatto questo gioco che ha rotto un minimo dove vuole andare e sta andando giù giustamente eh noi per vedere in che modo eh possiamo vedere eh zona di buon mercato che ha appena accennato abbiamo detto misuriamo tutto questo cento per cento di questo movimento e poi troviamo zona di buon mercato abbiamo detto zona di buon mercato in genere non è cinquanta per cento come abbiamo spiegato nell'esempio che se tu vuoi comprare un televisione vai a comprare dove costa di meno e quindi adesso che noi per esempio in questo caso vogliamo comprare eh dollari noi dove comunque compriamo qua compriamo dove costa di meno e quindi aspettiamo che prezzo diminuisce oppure se stiamo nel mercato ortofruttico vogliamo comprare una frutta andiamo in quella baracca in in quel posto dove costa di meno e quindi nel caso del mercato in genere zona di buon mercato e sta qua non è un punto preciso cari signori ve lo dico eh di nuovo che qualcuno mi dice no un tic in più un tic in meno no queste zone di buon mercato è un livello livelli in genere sempre sono delle zone non sono mai una linea precisa che dobbiamo di chiedere so a uno tredici uno virgola tredici quattrocento ci sta la vendita no ci sta qua ci sta ballo del mercato ci stanno giochi del mercato e quindi dobbiamo considerare sempre questo allora poi abbiamo detto per quale motivo e liquidità pure abbiamo spiegato per esempio adesso che se mercato viene qua oramai sopra qua eh non si ferma a questo livello un'altra volta che arriva qua non si ferma perché viene e per prendere liquida di questo sicuramente li supera se dovesse dopo che ha fatto questo lavoro suo tutto qua se dovesse arrivare qua direttamente sale fine qua per prendere liquidità perché questa a sua volta ha preso liquidità di questo questo è un doppio massimo e quindi terzo eh movimento del mercato in genere difficilmente viene qua prende qua sembra che il mercato vuoi andare giù e quindi viene prende liquidità di questo movimento e di nuovo continua e strada sua da qua e quindi visto che tutti pensano che mercato da qua ha fatto doppio massimo allora crolla in genere loro sono persone come me come te che stanno dall'altra parte che stanno a fare guerra contro di noi e quindi che fanno sapendo che tutti quelli la che hanno sono andati a mh short e stop loro sta qua sapendo che parecchia altra gente per esempio mette mh mh bai e stop qua loro che fanno vengono qua su prendono e stop di quelli che stavano qua e stop di eh di quelli che stavano dall'altra parte eh che avevano fatto bai e stop e prendono e da qua di nuovo cominciano a continuare eh movimento loro short perché dico questo perché bisogna sempre contestualizzare perché noi abbiamo questo livello una volta che se fine venticinque trenta pip da questo livello sale per noi ancora è un stop non è un mercato che è diventato long mercato long diventa in questo modo quando fa questo gioco diventa un mercato long in questo modo però se questo qua va solo fine qua sopra prende liquidità di questo pre ossia le presa di liquidità cos'è non è altro che presa di e stop di quel povere gente che è entrata al mercato e quindi se viene fino a non ripeto venticinque trenta pip pure fine qua che fa un shadow e torna questo un estopant che estopant non è altro che o è un altro livello o molto semplicemente molto volgarmente detto che prende un ehm eh liquidità di questa eh questa zona un estopant in poche parole che poi estopant in effetti non esiste io sempre ho detto non esiste siamo noi che non riusciamo a distinguere eh livelli precisi e quindi lo chiamiamo estopant perché perché oggi adesso vi spiego vedete questo questa zona qua o questa zona qua a questa è una zona di liquidità che ci stava qua e quindi da qualche mercato partito se questo qua arriva fine qua e torna giù è tutto più che regolare perché perché prezzo sta qua che a sua volta questo qua sta figlio di quest'altro movimento che questa a sua volta sta con l'altro figlio di quell'altro movimento come si vuol dire che mercato sempre eh uno sta tendo l'altro l'altro problema adesso arriviamo direttamente all'argomento di oggi di supply edema l'altro cosa che abbiamo detto era erano le trend line abbiamo detto noi da time frame più alti cominciamo a tirare il nostro trend line che funzionano sempre trend line sempre funzionano bisogna sapere tirare come si deve e quindi ogni volta che tu tiri un trend line line se questo qua tu porti sul mensile e subito da là comincia a tirare perché questo qua figlio di un altro movimento che sta sopra ti da preciso questo livello e quest'altro è qua che fin dove può arrivare comunque questa è una lezione di oggi che già abbiamo fatto un webinar a riguardo questo andiamo avanti allora argomento di oggi è supply e demand supply e demand eh puliamo tutto puliamo tutto e andiamo su supply e demand ehm supply e demand che vuol dire per noi intanto vogliamo dire questo mettiamo così questo mettiamo così e questo mettiamo così prezzo qua dentro cammina prezzo qua e sta camminando e quindi va su oppure va giù mentre la richiesta eh supply e demand non è altro che richiesta e offerta nel mercato voi quando ci sta troppo petrolio eh prezzo di petrolio diminuisce quando nel mercato ortofrutticolo ci sta troppe patate prezzo di patate diminuisce se è un periodo che per sotto Pasqua per motivi che per esempio non lo so eh la gente vuole tale prodotto prezzo di quel prodotto aumenta sotto Natale prezzo di prezzo di pesce io sono sul mare e quindi mi stavo più dentro zona di pesce frutti di mare prezzo di mercato aumenta due volte tre volte e quindi la gente o in tempo deve procurarsi oppure deve pagare a prezzo più alto e quindi che vuol dire arriviamo al punto che come prezzo richiesta aumenta aumenta pure prezzo come richiesta aumenta come richiesta diminuisce e diminuisce pure prezzo e quindi tutto questo qua arriva a un certo punto che c'è un equilibrio non ci sta più finito la Pasqua finito Natale finito periodo di confusione che non ci stanno più turisti nessuna richiesta petrolio non ci serve estate diminuisce consumo di gas e petrolio e quindi arriva a un punto di equilibrio e quindi non ci sta né di non va né di qua e né di qua e quindi questo punto di equilibrio del mercato capito questa è da qua eh domanda e da qua richiesta e punto di equilibrio questo punto di equilibrio in genere nel mercato si vede o con una n in questo modo che in questo modo così che richiesta e offerta vengono tutti quanti eh tutti e due vengono pari o poi dopo che diventa che quando la richiesta da una parte aumenta mercato di nuovo comincia a muoversi prima comincia a muoversi così poi come una fune che eh tirano una parte dall'altra parte poi se ci sta richiesta di più va dall'altra verso su e se ci sta offerta di più viene verso giù da questo punto qua e quindi questo è tutto gioco di offerta e richiesta noi abbiamo diversi tipi di offerta e richiesta eh tra cui eh o abbiamo una cosa di eh candele dove stai qua o abbiamo eh un eh cosa di eh di pivò eh questa offerta e richiesta abbiamo o tipo pivoti eh che sarebbe un'unica candela o abbiamo delle fasce per esempio su qua aspetta che pulissimo qua pulisco qua pulisco qua pulisco qua noi prendiamo eh o è una fascia tipo questa fascia qua questa è una fascia di eh particolarmente questo è un un suo particolare eh di tre candele che adesso ci arriviamo proprio eh su questo argomento più in là oppure ci sta un'unica candela che vuol dire vuol dire che quando abbiamo un movimento forte l'ultima candela di color contrario tipo questo per esempio dal vivo del mercato per le stati questo è un movimento forte che è iniziato l'ultima candela di questo verde a questa altezza e quindi questo è un livello di pivò un livello di offerta richiesta che vuol dire dice Gianni allora tutto questo che mi serve ti serve che una volta che prezzo arriva qua fa tutti questi giochi suoi qua e arriva qua qua e sbatte e sbatte qua e quindi dopo che ha superato questo livello che ha superato questo livello ha preso liquida di questo ecco che dicevo siamo noi che ne riusciamo a distinguere e quindi prezzo batte qua perché perché ci sta questo eh pivò qua che eh offerta richiesta e da qua fu cominciato un movimento forte e quindi prezzo una volta tornato qua e sbatte qua vicino e viene questo si chiama un eh offerta richiesta di tipo pivò un'unica candela un'unica candela che sta dietro qua vedete qua non ci sta più niente oppure abbiamo un altro tipo che è quello tipo range tipo range tipo eh un gruppo di candele tipo in questo caso tre candele che tre candele sono un livello molto importante e quindi che succede questa abbiamo queste tre candele in questo modo uno due tre alla fine e poi subito dopo un movimento forte dove siamo questo analizziamo su time frame daily però su daily che me ne faccio allora che facciamo puliamo qua puliamo qua questo qua portiamo su un time frame più basso su H4 su H4 cosa troviamo? Su H4 cosa troviamo? Troviamo tutta questa zona noi cominciamo a raffinarla ancora di più invece di avere tutto questa zona eh eh time frame daily qua cominciamo a raffinare la zona diciamo o eh prendiamo quest'altra tre tre candele o l'ultima candela eh che qua come iniziato movimento e cominciamo a tirarci in questo modo in questo modo o così con due trend anche possiamo vedere pure nei vari time frame in questo modo e questo poi cancelliamo così non ci confondiamo e quindi una volta che prezzo arriva là su questa zona qua e sbatte come vedete già qua è sbattuto eh una volta due volte hm è sbattuto qua e voi di nuovo cominciate a crollare e quindi posso fare una domanda sono domenico? Sì come no? Solo per curiosità mia no? Sì. Cosa ne pensi eh degli indicatori che diciamo così vengono presentati proprio come supply demand rispetto a queste linee che stai tracciando te? Sì. Se metti un indicatore supply demand le rispecchia oppure no? Sì rispecchia rispecchia e spesso pure rispecchia ma lo mettiamo io ecco grazie ehm ehm un ehm un mettiamo questo autosupporte e demand vediamo qua ehm ehm su time frame daily non mi dice niente qua non mi dice perché non mi dice niente ecco questo qua ti fanno vedere in questo modo vedi? In questo modo dice questa era eh una zona tutto vedi sempre tira questo modo e qua sopra questo funziona pure quello non dico che non funziona però noi tecnicamente stiamo a capire il mercato poi dopo se tu metti pure Fibonacci qua sopra ti dice pure eh tante informazioni che eh una volta che c'hai Fibonacci ti dice per esempio dove zona che benchmark dove zona che mercato può eh girare non può girare che in genere dice questo quando taglia l'accumo viene tutto su e tutto resto però noi non stiamo a vedere questo e stiamo a capire di mercato proprio in generale come funziona poi dopo una volta fatto una volta che tu metti eh indicatore sopra ti rendi conto di che si tratta perché questo eh indicatore ti indica questo perché tu devi sapere perché l'altro cosa che continuiamo discorso eh l'altro cosa che dobbiamo sapere in genere quando voi vedete una candela tipo questo ingrandisco una candela tipo questo qua questo l'ultimo qua che c'ha un corpo piccolo è un shadow molto grande e quindi questo è un altro eh elemento che per noi è molto importante che al centro di questo prezzo quando arriverà un domani qua al centro di questo qua di precisa al centro al centro di questo e sbatte e torna su torna giù di nuovo eppure deve andare su eh Erminio se c'è delle domande per non allungare troppo la lezione dopo chiudiamo registrazione e poi domandiamo sì per le domande e poi dopo eh questo per quanto riguarda eh l'altro argomento che poi dopo eh abbiamo order bollocchi order bollocchi non è altro che un altro tipo di offerta e richiesta che questo per esempio una candela di order bollocchi eh arriviamo in eh futuro arriviamo credo la prossima o quell'altro no la prossima saranno per eh ritracciamenti prossimo video video lezione che abbiamo sarà quella di di ritracciamenti che questo movimento qua in che modo avrà questo ritracciamento quando ce l'ha e in che modo ce l'ha per esempio oggi vi faccio un esempio e poi chiudiamo eh argomento di questo oggi mi chiedeva Margherita se non mi sbaglio e diceva come funziona questo aveva messo su time frame daily e non capiva com'era mercato ho detto eh cara Margherita ogni volta se non ti trovi su H1 non capisci o vai su time frame più su o time frame più giù se vedi qua in questo disegno che ho postato pure nel grafico se vedi qua un movimento forte eh e poi un ritraccio e adesso dopo un ritraccio che manco per fare a posto eh se ci fate caso ventuno quaranta di Fibonacci ha ritracciato e da qua ha cominciato il movimento suo io questo qua è stamattina non mi ricordo quando era che mi ha chiesto che ci ho postato questo poi mi domandava di nuovo dice perché non abbiamo considerato questo ho detto guarda noi prendiamo in considerazione movimenti grandi movimento uno due dentro questi movimenti ci stanno tutti questi qua ognuno sono di time frame più bassi che ti dicono eh hanno la loro parola e quindi qua dentro ad esempio ci sta una N qua un'altra N qua e quindi perché mercato sempre formato da varie forme di N in genere sempre per quel motivo che accennato prima che ho detto mercato funziona in questo modo questo a sua volta è un'altra N in questo modo che dovrebbe fare in questo modo per arrivare su che questo è primo leg secondo leg e terzo leg e poi ci ho messo pure il numero di candele che questo numero di candele pure abbiamo detto per quale motivo che già quando abbiamo detto quel cerchio magico come diceva il nostro caro amico Domenico diceva cerchio magico abbiamo detto perché di questo ventisei o nove candele che ventisei non altro che sarebbe ventisette che poi sarebbe tre volte nove candele e quindi si fa ventisette poi ventisei ventisei cinquantadue meno uno fa cinquantuna candele che ha fatto da qua a qua come risponde sempre in genere comunque questo è molto sinteticamente per quanto riguarda supply e demand e credo credo di aver detto quasi tutto a un'altra cosa che vi volevo far vedere era questo che noi quando abbiamo un un grafico un grafico long e sta andando che questo sempre in risposta che prima margherita mi stava di in che modo riusciamo a capire questo movimento che cambia da un movimento long questo viene da un movimento così long diventa short miglior soluzione per noi questo è l'ultimo minimo nostro che ha fatto l'ultimo massimo questo è schematicamente io sto a dire che per spiegare questo punti qua che poi dopo tutti questi punti arriviamo eh più estesamente che sono arrivano fine sette se non mi sbaglio sette punti arrivano sei e sette qua manca ancora eh un movimento long per diventare short crea questo eh ciò poi dopo una una volta che ha creato questo ciò in questo modo che ha arrivato a questo minimo appena pure per un ticla bucato arriva più su ma non crea eh non forma un altro massimo di questo questo è miglior soluzione per per noi per cambio del trend che vuol dire vuol dire che noi dobbiamo avere una rottura di che di un ehm una rottura di un livello che abbiamo qua abbiamo avuto eh abbiamo avuto pure qua da qua quando ho cominciato a fare questo gioco abbiamo una rottura poi dopo ho tornato su una presa di liquidità questo eh vuol dire presa di liquidità e quindi presa di liquidità pure abbiamo avuto ecco perché sempre dico non si entra immediatamente a meno che uno dice vabbè io rischio uno stop del genere da qua acqua e vado vado al mercato una presa comunque normalmente bisogna aspettare che fa tutto questo movimento suo e da questo punto qua quando dopo che ha creato ciò che è BOS di nuovo arriva su ritraccia eh super prende liquidità di questo movimento e qua sarebbe per eh presa di liquidità e non supera questo e comincia a andare giù questo miglior movimento di nuovo una volta che è andato giù viene e di nuovo viene a testare questo ma non supera questo viene solo vicino di questo che vuol dire vuol dire che qua adesso noi abbiamo un livello vergine un livello vergine pure abbiamo spiegato cos'era un livello che ancora non è testato da niente da qua sopra e quindi queste sono migliori occasioni per andare al mercato short quando fa questo eh movimento così che mi eh cos'è vuol dire che rompe un livello qua ha rotto qua ha rotto un livello numero uno numero due ah mitigation mitigation pure qua ci siamo eh ve lo dico mitigation cos'è molto brevemente poi eventualmente prossima lezioni arriviamo mitigation non è altro che questo livello qua che inizia una un short per noi questo una reazione a questo massimo assoluto nostro questo non è altro che eh mitigazione questo mitigazione di questo questo si chiama mitigation e quindi se voi vedete questo è una reazione di questo in poche parole come se questo qua ha rispettato questo livello questo qua ha rispettato questo viene quest'altro movimento prende liquidità di questo e fa mitigation con questo fa mitigazione di questo e quest'altro e quindi qua abbiamo un livello molto forte un livello molto forte noi abbiamo qua sopra perché perché abbiamo un livello vergine abbiamo una mitigazione abbiamo eh prese di liquidità che ha fatto e tutto il resto questo che vi volevo dire pure qua sopra possiamo chiudere per oggi la prossima volta arriviamo come accennato arriviamo a ritracciamenti che in che modo questi ritracciamenti noi dobbiamo considerarli che quanti modi arrivano se è veloce se lento scusa lento che significa dimmi tutto è tracciato eh in effetti farei la distinzione tra una correzione di prezzo ritracciamento è un'inversione di tre perché se il prezzo arriva più in basso più che il ritracciamento lo scusa se dico questo vedendo la figura è proprio un'inversione di tre perché sì sì abbiamo detto che è un'inversione però io dicevo ritracciamento cos'è una volta che qua e sta qua in questo modo ritraccia ah beh scusa io ho fatto su questo devo fare su quest'altro hai ragione hai ragione per capire allora se se tu interrompi la condivisione io devo passare un attimo su un'altra slide per chiudere poi così io vi ringrazio questi corsi come abbiamo sempre detto sono corsi gratuiti io mi metto a disposizione tutte le domande dopo ogni webinar sono a disposizione di amici interrompi la condivisione grazie e alla prossima ok condivido un attimo io lo schermo un attimo solo per concludere per fare le cose come si deve allora quindi ringraziamenti e saluti quindi ringraziamo Gianni Carinpur e tutti i partecipanti e ci aggiorniamo per la prossima volta voi potete continuare dopo che ho interrotto diciamo così la registrazione a fare le domande che Gianni vi risponde quindi io adesso chiudo la registrazione di nuovo ringraziamenti e buonasera a tutti sì